In realtà diventa immortale perché viene sostituita, cioè le parti restanti vivono di vita loro. Ripeto, se ritogli il nutrimento allora morirà tutto l'essere, ma se non ritogli il nutrimento basta che ne resti un pezzettino e prima o poi si rimanifesterà. E il nutrimento di cui parla l'avvocato penalista Niki Persico? È proprio il denaro che la criminalità organizzata acquisisce soprattutto attraverso l'omertà? Uno dei cui aspetti fondamentali è l'induzione attraverso una serie di azioni alla tesometria virtuosa come strumento per riuscire a esercitare un potere sulla popolazione garantendosi un margine di impunità più elevato. L'autore di Spaghetti Paradiso ha già dato alle stampe con gelso rosso Hair, un lavoro molto diverso dagli altri. Non è solo una raccolta di poesie con copertina personalizzabile, è piuttosto una sorta di flusso di coscienza che spinge a mettere da parte la materialità della vita e a sognare.